Architetti dell'Umano è il nome del logo della candidatura di Fano, capitale italiana della cultura 2021. L'immagine distintiva riprende il city brand della città. La presentazione venuta in Sala Verdi del Teatro della Fortuna è stato un primo momento ufficiale dove l'amministrazione ha presentato lo schema del dossier che vuole rappresentare la tradizione di Fano in chiave moderna. La scelta di candidare Fano costituisce infatti la soddisfazione di una richiesta forte emersa durante il processo partecipativo compiuto per l'elaborazione del piano strategico della città Orizzonte Fano 2030, laddove la cultura veniva diffusamente intesa come strumento privilegiato di sviluppo economico e sociale come occasione di rilancio della città quale destinazione turistica come campo di sperimentazione di tecnologie innovative. E proprio dal piano strategico il dossier di candidatura riprenderà i temi della città accessibile, dell'innovazione aperta e riuso, ma anche dei caratteri che da sempre contraddistinguono Fano, ovvero città dei bambini, del mare, del carnevale e di Vitruvio, che sarà la base e la guida di tutto il progetto. Durante la presentazione si sono alternati diversi esponenti di associazioni identi cittadini, i quali hanno voluto lasciare la propria idea di città futura da poter inserire all'interno dello schema del dossier, formando degli scenari possibili da poter sviluppare. La candidatura è sostenuta anche dalle città di Pesaro e Urbino e da tutta la provincia, che attraverso i primi cittadini credono fortemente della potenzialità di Fano a diventare detentore del titolo, in una prospettiva di opportunità del territorio, in vista anche della candidatura della provincia stessa nel 2033.